Un abbraccio ideale tra il sinodo straordinario dell'ottobre 2014 e il sinodo del 2015. Lunedì sono stati inaugurati i lavori della XIV Assemblea Generale con l'intervento di Papa Francesco che ha da subito messo l'accento sull'importanza di camminare insieme con lo spirito di collegialità adottando coraggiosamente la parressia, lo zero pastorale e dottrinale e mettendo sempre davanti il bene della Chiesa e delle famiglie. Il sinodo non è un Parlamento dove per raggiungere un consenso o un accordo comune si occorre al negoziato, al pateggiamento o ai compromessi, ma l'unico metodo del sinodo è quello di riaprirsi allo Spirito Santo con coraggio apostolico, con umiltà evangelica e con orazione fiduciosa, affinché sia Lui a guidarci, a illuminarci e a farci mettere davanti agli occhi con i nostri pareri personali, ma la fede in Dio, la fedeltà al Magistero, il bene della Chiesa e la salus animale. Il Pontefice ha poi invitato tutti a essere docili all'opera dello Spirito Santo, ascoltando la voce di Dio che parla nel silenzio e ad avere coraggio apostolico e umiltà evangelica. Il coraggio apostolico che non si lascia impaurire né di fronte alle seduzioni del mondo che tendono a spegnere nel cuore degli uomini la luce della verità, sostituendola con piccole e temporanee luci, e nemmeno di fronte all'impietrimento di alcuni cuori che, nonostante le buone intenzioni, allontanano le persone da Dio. Il coraggio apostolico di portare vita e non fare della nostra vita cristiana un museo di ricordi. L'umiltà evangelica che sa svuotarsi dalle proprie convenzioni e pregiudizi per ascoltare i fratelli vescovi e riempirsi di Dio. Umiltà che porta a puntare il dito non contro gli altri per giudicarli, ma per tendergli la mano, per rialzarli senza mai sentirsi superiori a loro. Dopo l'intervento di Papa Bergoglio, la parola è stata presa dal Cardinale Peter Erdo, relatore generale dell'Assise, nella relazione introduttiva, suddivisa in tre punti, le sfide, la vocazione e la missione della famiglia, il porporato ha indicato anche un'attenzione misericordiosa per chi vive situazioni familiari difficili, ma nella verità. Riguardo ai divorziati e risposati civilmente, è doveroso un accompagnamento pastorale misericordioso, il quale però non lascia dubbi circa la verità dell'indissolubilità del matrimonio insegnata da Gesù Cristo stesso. La misericordia di Dio offre al peccatore il perdono, ma richiede la conversione. La mattinata è proseguita in Sala Stampa Vaticana per un primo incontro con i giornalisti. Presenti anche il Cardinale André Ventrevoir, arcivescovo di Parigi, presidente e delegato, e Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, segretario speciale. L'aria del tempo, le tendenze, non corrispondono ai segni del tempo. Si tratta di un'altra cosa. I segni del tempo sono un atto di un discernimento, un'interpretazione degli eventi alla luce delle scritture. L'aria del tempo è una pressione che possiamo adottare in funzione del modo di esprimere le cose. Personalmente non credo che il Papa sia completamente sottomesso all'era del tempo, ma ritengo che sia completamente libero. Io credo che, fermo restando ciò che ha detto il Cardinal Ventrevoir, che da questo sinodo non si devono aspettare modifiche della dottrina, perché è la fede della Chiesa, però bisogna anche dire con grande chiarezza che non è che questo sinodo si riunisce per non dire nulla. Cioè noi abbiamo l'attenzione pastorale che ci preme fortemente. Non è tanto un sinodo dottrinale, non sino un pastorale come lo fu il Vaticano II.